Nel 1900 Umberto I fu ucciso e divenne re suo figlio Vittorio Emanuele III, che restò fino al 1946 sul trono. La tensione in quel periodo aumentò, ci furono scioperi da parte di operai, manifestazioni da parte di contadini e la classe dirigente decide di non usare la repressione. Vittorio Emanuele III affidò così a dei liberali l'obiettivo di far partecipare alla nuova vita politica anche il movimento operaio. Giovanni Giolitti diventa presidente del Consiglio dal 1903 al 1914. Parliamo di età giolittiana e si consolida alla democrazia. Lo Stato doveva rimanere neutrale nei confronti del lavoro e tra le aziende e il movimento operaio non ci dovevano essere interferenze. Le forze di polizia non dovevano intervenire perché era stato riconosciuto il diritto di sciopero agli operai ed era garantito per legge. Giolitti quindi vedeva il movimento operaio e il movimento contadino come espressione della società moderna per tutti gli stati europei avanzati e se ricevevano più soldi come salario spendevano di più ed era positivo per l'economia. Giolitti favorì la partecipazione delle masse alla vita politica e cercò di accordarsi con i socialisti riformisti per combattere lo Stato borghese attraverso le riforme. Vediamo quali sono le riforme del Giolitti. Allora in primis fu regolato il lavoro notturno e fu regolato il lavoro nei giorni festivi. Fu stabilito l'orario di lavoro massimo in 10 ore e il lavoro riconosciuto poteva essere soltanto quello di persone superiori ai 13 anni. Aumentarono i sussidi per malattia congedo per maternità e invalidità e i sindacati erano intermediari tra Stato e lavoratori. Furono istituite le camere del lavoro che rappresentavano i lavoratori di ogni provincia. Inoltre l'ultima riforma la più importante fu quella sul voto cioè del suffragio universale maschile del 1912. Il diritto di voto all'epoca era riconosciuto a cittadini maschi superiori a 20 anni purché non analfabeti o cittadini maschi superiori a 30 anni che potevano essere anche analfabeti. Il totale dei votanti così passò dall'8% al 24%. Restavano però escluse le donne. Il partito socialista italiano fu fondato nel 1892 e i promotori erano i riformisti del partito. La corrente riformista era capitanata da Filippo Turati e Giolitti si propose di collaborare con Filippo Turati e quindi fare un'alleanza con i riformisti. Ma non fu coinvolto Turati nell'azione di governo. C'era poi l'altra corrente, la corrente rivoluzionaria del partito detta corrente massimalista. L'obiettivo era attuare il programma massimo del socialismo per abbattere il potere della borghesia. Inizialmente il partito dei riformisti era più numeroso rispetto ai rivoluzionari. Alla fine invece si inverte questo rapporto pertanto i rivoluzionari sono più numerosi e hanno la maggioranza rispetto ai riformisti. Fu poi consentito agli operai di essere rappresentati dai sindacati che si rifacevano al marxismo. Nel 1906 fu istituita la CGDL, la Confederazione Generale del Lavoro, che rappresentava i lavoratori di tutta Italia suddivisi per settore, ferrovieri, tessili, metalmeccanici. Poi c'erano i sindacati cattolici come la società del mutuo soccorso e le leghe bianche. I sindacati cattolici erano attivi nella vita sociale ed economica del paese ma non in politica. Non esisteva un partito politico cattolico a causa della presa di posizione di Pio IX che aveva proibito la politica ai fedeli. Papa Leone XIII con un'enciclica aveva detto che i fedeli e i lavoratori dovevano inseguire una giustizia sociale contro il marxismo. Giolitti nel 1919 propone ai cattolici di appoggiare i liberali nelle elezioni a suffraggio universale maschile per far sì che non venissero votate leggi che andavano contro i cattolici. Così facendo però i liberali ebbero soprattutto l'appoggio di organizzazioni cattoliche, divennero sempre più potenti e vinsero le elezioni. A questo punto però Giolitti perse il potere e quindi si dimise nel 1919. Il clientelismo favorisce la modernizzazione del paese ma ad un costo e cioè Giolitti per ottenere gli obiettivi di modernizzazione di pace sociale utilizza come strumento il clientelismo e cioè favorisce persone che appoggiano un uomo politico in cambio di favori. Questo però danneggia soprattutto il sud.